in questa breve video lezione vi voglio introdurre all'utilizzo dei led rgb lo faremo utilizzando la scheda arduino una breadboard dei resistori e un led rgb cos'è un led rgb innanzitutto? un led rgb è un led ok ovvero sono tre led in un unico package questo ci permette comandando singolarmente ciascuno di di generare un colore diverso per esempio se volessimo solo il rosso possiamo accendere solo il rosso per il blu accenderemo solo il blu per il verde accenderemo solo il verde ma nessuno e nulla ci vieta di accenderne più di una alla volta quindi potremmo accendere il rosso il verde e il blu contemporaneamente per ottenere il bianco o potremmo accendere per esempio il rosso a metà il blu a piena potenza il verde non del tutto per esempio 0 o poco più di 0 e ottenere una sfumatura di marrone non so nemmeno bene che colore potrebbe venire fuori e così via cioè possiamo combinare diverse intensità di rosso di verde di blu per ottenere diversi colori quanti colori possiamo ottenere beh ce lo dice la matematica noi per esempio con un convertitore ad 8 bit quale quello di arduino quindi possiamo avere un generatore PWM ad 8 bit quindi con 256 livelli fondamentalmente abbiamo 256 livelli sul rosso sul verde e sul blu qui in totale abbiamo 8 più 8 più 8 24 bit a disposizione e quindi facendo un semplice calcolo 2 alla 24 fa 16.777.216 diversi colori quindi questo è quello che possiamo avere cioè dal bianco con tutti i led completamente accesi a spento ovviamente tutti i led spenti a tutte le sfumature intermedie come facciamo a gestire quindi questo led beh innanzitutto dovremmo capire com'è fatto quindi io qui ho preso un datasheet un datasheet di un led della king bright un a caso come ha fatto vedete che fondamentalmente ha la classica forma del led da 5 mm infatti qua è scritto diametro 5 e ha non solo a questo punto due terminali ma ne ha quattro quindi avremo quattro reofori il più lungo dei quali è quello comune allora qui fate attenzione abbiamo la versione a catodo comune cioè vedete che i tre led quello rosso blu e verde hanno il catodo in comune mentre i tre anodi sono separati perché ovviamente dall'altra parte avremo la possibilità quindi di pilotarli singolarmente abbiamo la possibilità ovviamente di scegliere un catodo o un anodo comune io adesso ho scelto un catodo comune perché perché mi stava comodo perché così vado a dare energia ai led che voglio accendere con l'anodo comune devo lavorare in logica invertita ma ne parleremo adesso non vi fissate su questo allora quindi abbiamo vedete qua lo schema il catodo è il 2 ed è il più lungo sull'anodo comune sarà sempre quello più lungo qui anche scritto catodo poi l'1 è il rosso il 3 quindi questo qui è il blu e il 4 è il verde ok quindi abbiamo i quattro terminali che ci servono poi scendendo giù ovviamente le datasheet possiamo trovare le luminosità le varie cose le varie frequenze o lunghezze d'onda della luce emessa dai singoli led possiamo vedere le correnti assorbite per esempio generalmente 30 milliampere o cose di questo tipo una parola su queste correnti allora 30 milliampere sono troppi per un output di arduino ok nessun micro controllore di per sé è in grado di dare 30 milliampere su un'uscita digitale scordatevelo lo bruciate quindi dobbiamo pilotarlo con una corrente inferiore io nell'esercizio che tra poco vi farò vedere l'ho pilotato con circa 10 milliampere cose di questo tipo tanto vanno più che bene per avere un'idea di come funziona poi per applicazioni concrete dovremmo capire come fare ok quindi magari dovremmo mettere dei transistor dei amplificatori qualcosa ma non è questo il momento adesso capiamo la tecnica di pilotaggio cos'altro ci dice il datasheet ci dice va bene quale frequenze o lunghezze d'onda qui in nanometri del blu del verde del rosso alla temperatura canonica di 25 gradi centigradi qui avete vedete la corrente di foro c'è la corrente diretta nel led fondamentalmente è un diodo quindi 10 milliampere abbiamo circa 1,8 volt 1,85 ne dovremmo tenere conto per dimensionare i resistori vi dico già che io qui ho messo dei resistori da 330 ohm quindi ho calcolato da 5 volte una caduta di 3,3 volte ecco che arriviamo a 1,7 1,8 e abbiamo circa 10 milliampere ok quindi questo è il calcolo molto semplice ovviamente con 10 milliampere abbiamo una luminosità relativa rispetto al picco dichiarato qua sopra nei dati qui sopra eccoli qua abbiamo una luminosità pari a circa la metà la luminosità standard quella relativa a 20 milliampere l'abbiamo appunto con 20 milliampere e è quella dichiarata qua sopra ok quindi non è questo adesso che mi interessa non voglio avere una super luce mi serve di capire se tutto funziona ovviamente quelli erano i dati per guardate per il rosso per il blu in realtà dovremmo alzare un pochino la corrente in qualche modo se vogliamo comunque avere una luminosità sufficiente ovvero dovremmo in qualche modo andare a diminuire la resistenza perché con quei 330 ohm e diciamo si abbassa quindi abbiamo circa 3 volt per avere 10 milliampere quindi dovremmo avere una resistenza più bassa quindi 200 ohm ok per avere una caduta di 2 volte la possiamo correggere per il verde addirittura guardate 10 milliampere sono 3,20 3,2 volte circa ok qui più o meno siamo ai livelli del blu cambia poco però questo è un dato importante perché poi quando dovremmo andare a dimensionare le variabili per generare una certa luce ne dovremmo tenere conto perché dipendentemente da quanta luce viene messa ad una certa frequenza otterremo una sfumatura di colore o un'altra e quello che andiamo a fare col pwm proprio modulare l'intensità luminosa quindi in realtà sul blu qui dovremmo mettere come vi dicevo il tipo 220 ohm di qua addirittura dovremmo metterne qualcosa in meno un 200 adesso mettiamo 200 200 non è un valore che troviamo facilmente in commercio però adesso lo mettiamo va bene quindi abbiamo dimensionato il nostro circuito ogni led pilotato opportunamente a 5 volt può generare una luminosità pari alla corrente di di pilotaggio di 10 milliampere quindi metà della luminosità nominale l'abbiamo visto nel data sheet adesso non ci addentriamo vediamo il programma allora come ho fatto io ho definito sul pin 11 una label un'etichetta chiamata red una green per il pin 9 e una blu per il pin 10 molto semplice poi mi servono tre variabili r g e b red green blu ovviamente le ho messe di tipo intero perché perché io voglio sfruttare tutta la dinamica arrivare fino a 255 se mettessi un char o anzi un unsignaled char è chiaro che la sua dinamica andrebbe da 0 a 255 quindi questo ciclo for fondamentalmente non funzionerebbe cioè quando andrei a fare l'r++ lo vediamo su una variabile che è di tipo unsignaled char arrivata a 255 non potrei mai metterla a 256 quindi non uscirei da questo for quindi fondamentalmente il programma adesso è molto semplice io accendo un led alla volta gli faccio fare una scansione di tutta la dinamica da 0 al massimo della luminosità prima il rosso poi il verde poi il blu e poi ricomincio come lo faccio ve l'ho detto con dei cicli for molto semplici vedete for r che va da 0 a 256 però quando 256 esco dal loop perché io ho messo r minore strettamente minore e poi aumento ad ogni passo la r quindi parto da r uguale 0 r 1 2 3 eccetera e ogni volta la r la vado a scrivere con analog write sul pin corrispondente al led che voglio accendere in questo caso il rosso quindi analog write fondamentalmente va a pilotare il modulo pwm corrispondente al pin vedete 11 red sta sull'11 e qui l'ho messo appunto rosso blu e verde ricordatevi che sulla scheda arduino 1 potete utilizzare pwm solo e soltanto dove c'è il tilde questa ondina questa qua sugli altri pin tipo il 12 e 13 dove l'ondina non c'è non potete utilizzare il pwm ovviamente lo potremmo utilizzare anche sul 3 i 5 e il 6 ma per comodità io l'ho messo qua detto questo che succede allora abbiamo un for arrivo a scrivere su analog write il valore della variabile r poi faccio fare anche una stampa qua sulla seriale e metto un piccolo delay di 5 millisecondi altrimenti sarebbe troppo veloce poi devo spegnere il led metto un delay di 25 qua perché la simulazione altrimenti mi darebbe un effetto poco gradevole cioè non è così veloce la simulazione da far spegnere completamente il led quindi vedrei che il rosso ancora è acceso e già parte il verde quindi otterrei dei colori un pochino brutti in realtà 25 sono anche pochi ho fatto delle prove forse anche 50 la stessa cosa la ripeto sotto vedete for g uguale 0 g minore di 256 g più più analog write green g eccetera eccetera fondamentalmente lo stesso stesso pezzettino di codice portato sia sul verde che sul blue ovviamente vi ripeto questa è una lezione introduttiva per capire se funziona il pilotaggio cioè per capire quello che fa un led rgb e come lo possiamo pilotare quindi il codice lo vedete la soli è molto semplice quello che faremo poi in seguito in altre lezioni è andare a scrivere dalla seriale il colore che io voglio ottenere vedremo vi farò vedere delle corrispondenze tra i colori per esempio che possiamo ottenere dal html ci sono delle codifiche particolari e poi lo passeremo come comando seriale al nostro arduino e lui ce lo imposterà va bene e poi cosa potremmo fare invece che pilotare un led singolo così potremmo imparare a pilotare le strisce rgb quindi quelle strisce led adesive che potete tagliare a misura per magari arredo o per illuminare un mobile o qualunque altra cosa e impareremo quindi a pilotare anche quelle lì quindi per ora limitiamoci alla bc alle basi simulazione molto semplice si parte vedete qua il programma mi scrive in seriale quello che sta facendo vedete prima accende il rosso poi il verde poi blu eccolo qua rosso e io volendo potrei fargli fare anche il plot di quello che mi arriva da seriale vedete da 0 a 255 poi torno a 0 riparto eccetera eccetera molto semplice vedete qua il led che prima rosso poi si spegne poi passa al verde si spegne il verde va al blu e così via come come vi dicevo poco fa l'effetto qua visivo non è dei migliori perché il simulatore non è così veloce da come dire avere uno spegnimento del led repentino e quindi quando il led rosso si spegne per dare poi passo al verde in realtà si ha una sfumatura di rosso e il verde non è poi così bello quindi io potrei semplicemente allungare questo tempo questo delay qui che nella realtà nella pratica non ci serve perché quando noi spegneremo il modulo pwm associato al pin del led rosso e lui si spegne cioè la corrente va giù a 0 repentinamente ovvero in un tempo molto molto breve quindi non ha senso questo questo ritardo però qui nella simulazione vediamo se migliora lo facciamo live adesso si è acceso il rosso poi si dovrebbe spegnere eccolo infatti un pochino più gradevole sia spento l'avete visto poi si accende il blu eccetera eccetera ok quindi questo è il senso ovviamente vi consiglio di cominciare a mischiare i colori ok fate un programma dove voi accendete più led contemporaneamente per esempio potreste accendere il rosso insieme al verde insieme al blu con sfumature diverso ovvero cercate di capire come creare dei loop annidati non annidati vedete un po esercitatevi per capire quello che può generare un led di questo tipo cioè tutte le varie sfumature qui io ovviamente ho acceso un led alla volta quindi o è blu o è rosso o è verde potreste provare a mischiarli e vedere quello che succede per le prossime lezioni ve lo dico già dovremmo conoscere un pochino di elettronica ovvero dovremmo imparare a pilotare dei transistor quindi se non avete confidenza con i transistor pensate a studiare un pochino di elettronica per prendervi un corso di elettronica potrebbe darvi una buona mano ok alla prossima